Buongiorno, sono Sara Martello, gestisco il negozio della Brums sulla piazza del Duomo a Orvieto. Questa iniziativa ci è piaciuta tantissimo, abbiamo a che fare tutti i giorni con i bambini molto fortunati e quindi abbiamo deciso di devolvere il contributo che l'azienda ci dà per la pubblicità ai bambini invece meno fortunati del Kosovo e quindi nell'ambito di questa manifestazione faremo una sfilata per presentare la collezione autunno-inverno della Brums e nello stesso tempo cercheremo con ricavato di aiutare i bambini meno fortunati. Vi ringraziamo se venite a vederci. Sono Gianluca Foresi e ringrazio le telecamere di Orvieto News e nella persona di Luca Filippetti che ha voluto dare il suo contributo per pubblicizzare e promuovere questa manifestazione che ovviamente è una manifestazione in collaborazione con AIBI, l'associazione dei bambini e delle famiglie in comune devoluta ai bambini del Kosovo insieme a Brums Orvieto che si occupa di abbigliamento per bambini. La Kermes è un gran galà che vedrà l'esibizione di vari artisti nazionali e locali. Ora non sto facendo l'elenco ma primi fra tutti Marco Baldini che tutti voi conoscete a fianco di Fiorello, Simone e Andrea il duo comico di Colorado Caffè e questa per la parte più divertente e più frizzante. C'è una parte lirica riflessiva e verrà introdotta dalle note e dalla maestria di Riccardo Cambri e a seguire le evoluzioni canore del soprano Luisella Capoccia per concludere in maniera fastosa e grandiosa col coro di Solomeo che ci proporrà dei brani a partire dal Medioevo fino al Barocco fino ad arrivare addirittura a una nuova interpretazione di Yesterday ovviamente dei Beatles. Insomma gli ingredienti ci sono tutti per trascorrere una serata all'insegna della solidarietà in collaborazione con AIBI, l'associazione dei bambini, Brums, Orvieto e tutti quanti gli amici che si sono messi al servizio gratuitamente semplicemente perché vogliono sposare questa causa. Quindi non resta altro che darvi l'appuntamento il 21 venerdì alle ore 21 in piazza del Duomo qui a Orvieto. Grazie.